E' il primo treno del mattino, il Frecciarossa 1000 AV9595, che ha lasciato alle 5.10 la stazione di Milano Centrale e che alle 5.35 percorre a 292 all'ora il km 166 più 771. Per uno scambio lasciato aperto, devia a sinistra solo la prima carrozza locomotrice, si schianta contro una palazzina, uccidendo di colpo i macchinisti. Grazie ad un mix di tecnologia e fortuna, il resto del convoglio non segue la deviazione e si ferma 400 metri dopo, quando solo la seconda carrozza si è adagiata al suolo e le altre sono rimaste miracolosamente in piedi. Le domande che domineranno il processo e che restano nella testa di tutti noi viaggiatori sono semplici. Com'è possibile che uno scambio sia rimasto aperto facendo deviare il treno? E davvero quegli operai che lavoravano sulla linea fino a pochi minuti prima si sono dimenticati di chiudere il deviatoio, compiendo un errore così marchiano e al fine criminale? E poi, era davvero aperto? Oppure il fatto di essere stato chiuso a mano e non elettronicamente, le vibrazioni del Frecciarossa nel suo passaggio lo hanno riaperto? Sappiamo che alle 4.45 di giovedì mattina gli stessi operai avessero inviato alla centrale operativa una notifica della disalimentazione del deviatoio e del successivo posizionamento in maniera corretta e il fatto che il deviatoio fosse senza alimentazione ha però impedito al sistema di sicurezza di rileare l'anomalia e bloccare il convoglio in tempo. L'altra domanda semplice è quella che a caldo si sono posti i primi inquirenti arrivati sul posto. Com'è possibile che un treno che svia a 292 km all'ora non provochi una strage? La prima risposta è semplice, a quell'ora a bordo erano solo in 31 e il fato ha voluto che nessuno fosse nella carrozza di prima classe che si è schiantata contro la palazzina e neanche nella successiva che si è piegata strusciando per 400 metri. Gli altri passeggeri nelle carrozze successive hanno raccontato di essersi salvati dal boato durato 40 secondi, chi gettandosi a terra, chi chiudendosi in bagno, chi mettendosi in posizione da disastro aereo come indicano le hostess prima del decollo.